L'unpass sulle nomine del capo della polizia e del comandante generale della Guardia di Finanza è terminata questa mattina in Consiglio dei Ministri. A Palazzo Chigi si è riusciti a sbrogliare una matassa che rischiava di diventare sempre più ingarbugliata. I nomi su cui si è finalmente arrivati a un accordo sono quelli di Vittorio Pisani, vice direttore dell'Aisi Servizi Segreti Interni, nuovo capo della polizia, e Andrea De Gennaro, nuovo comandante generale della Guardia di Finanza, anche se quest'ultima nomina sarà ratificata nel prossimo Consiglio dei Ministri. Pisani è il nome gradito al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Viminale, che ha di fatti bruciato tutti sul tempo annunciando la scelta a Consiglio dei Ministri ancora in corso e complimentandosi contemporaneamente con il nuovo capo e quell'uscente Lamberto Giannini, andato ad occupare una poltrona vacante da mesi, quella di prefetto di Roma. La loro nomina contribuirà a rafforzare l'azione dello Stato, ha scritto Piantedosi, mostrando tutta la sua soddisfazione per aver ottenuto ciò che chiedeva, nonostante Giannini, come è noto, fosse restio ad accettare quell'incarico. Anche sul fronte delle fiamme gialle, il braccio di ferro tra l'ala leghista del governo e gli esponenti di Fratelli d'Italia sembra essersi risolta a favore di questi ultimi con la scelta di Andrea De Gennaro. De Gennaro, 63 anni, attuale numero 2 della Guardia di Finanza, sponsorizzato nell'esecutivo dal sottosegretario con delega alla sicurezza Alfredo Mantuano, molto vicino alla Premier Meloni. Questa scelta sarà formalizzata nel prossimo Consiglio dei Ministri, perché oggi era assente il ministro Giorgetti, proprio colui che invece avrebbe voluto per quella poltrone, il generale di Corpo d'Armata Umberto Sirico, attuale comandante dei reparti speciali della Guardia di Finanza. Grazie.